Ciao a tutti, ben ritrovati, sono DJ Peck, questo è il mio canale, come sempre, nuova puntata di Parole in Libertà. Innanzitutto mi voglio scusare con voi se questi giorni sono stato un po' assente, ma tra qualche problema di salute, vacanze, fine anno e quant'altro, insomma, poi abbiamo ricominciato anche a lavorare. Il tempo per registrare video ce n'è stato veramente poco, e comunque, eccomi qua di nuovo, Parole in Libertà questa sera, tornerò presto anche con il mio mondo. Comunque, Parole in Libertà questa sera e non posso non parlare di una cosa, secondo me, vergognosa. Mi spiego subito, praticamente, come ormai ben sapete, dai fatti di cronaca della settimana scorsa, ormai di un pari settimane fa, insomma, morte di un tifoso a Milano, investito dai tifosi napoletani, assalto organizzato dai tifosi interisti verso i napoletani, cori razzisti a tibù, razzisti, verso Coulibaly, sdegno totale del mondo del calcio italiano, e tutti che invitano a riflettere, tutti che invitano la calma, tutti che invitano a smorzare i toni. Poi dopo ci si mette sicuramente qualcuno che dalla sua carica, dalla sua altezza, ci mette del suo perché c'è un allenatore allegri che dice semplicemente le cose come stanno, cioè che alcuni dirigenti, e poi questa tesi è stata anche sposata anche dal numero uno della FIFA in persona, infantino, insomma, dovremmo tutti stare un po' più tranquilli e smorzare i toni, e benissimo, viene multato per aver detto semplicemente la verità. Che succede dopo tre o quattro giorni che siamo da capo? È una roba veramente incredibile, si continua a protestare inutilmente, ma forse solo una protesta non sarebbe niente. Il problema, ragazzi, è che con queste dichiarazioni di alcuni dirigenti, di alcuni allenatori, e poi di alcuni, soprattutto, tra virgolette, giornalisti, si rischia veramente di fare il botto. È inutile, ragazzi, dire stiamo più tranquilli, non facciamo polemiche, non alziamo alla violenza, quando poi leggi le dichiarazioni di un signore, ne prendo uno per esempio, perché ce ne sarebbero mille altri che fino al giorno prima dicevano di stare tranquilli, e poi alla prima occasione, bam, subito, il signor Frecciero, tanto per non fare un nome, che tra l'altro è stipendiato da noi, perché comunque è stato eletto, è stato nominato, anzi, scusatemi, direttore di Rai 2, quindi anche una carica abbastanza importante di un servizio pubblico che si permette di dire cose veramente allucinanti, è una cosa veramente incredibile. Per fortuna che avevamo detto tutti quanti, era stato detto da tutti, di smorzare in qualche maniera i toni. Mi sembra che questa cosa non interessi farla, non so per quale motivo, io ragazzi capisco che la Juve vince e la cosa può far girare le balle a qualcuno, però le cose c'è modo e modo di dirle, poi fino che si dicono su YouTube, lo dico io, lo dice qualche altro YouTuber, ci sta, ci può stare, sono chiacchiere, le famose chiacchiere da bar, fino a che sono chiacchiere da bar va bene, ma quando si permettono di dirle alcuni giornalisti, io ripeto, tra virgolette, perché bene o male hanno una cassa di risonanza abbastanza ampia, quindi secondo me sarebbe molto bene, una cosa molto giusta, pesare le parole prima di dirle e stare attenti a quello che si dice. Scusatemi lo sfogo però veramente è una roba incredibile, non si può il giorno prima essere tutti buoni, il giorno dopo rimangiarsi completamente quello che si era detto il giorno prima, cioè scusatemi il gioco di parole, la ripetizione però è una cosa veramente incredibile. Non è possibile ragazzi, io mi auguro che chi di dovere, cioè chi, i giornalisti, i dirigenti, i allenatori, si mettono una mano sulla coscienza e riescono a capire che non si può sparare a zero così. Ma evidentemente la nostra società queste cose un po' liamo, basta vedere ragazzi anche le risse che ci sono in Parlamento è una cosa veramente vergognosa, è una cosa vergognosa, specialmente dalla classe che dovrebbe dirigere questo paese e dare quindi il buon esempio. Invece sono loro i primi che invece di discutere civilmente, esporre i propri problemi, no, credo che ormai anche in politica discutere non serva più a niente, non interessa a nessuno. L'importante è far polemica, l'importante è fare scandalo, l'importante è parlare, che poi dopo gli italiani che sono diventati purtroppo, mi ci metto anche io in mezzo, un popolo di pecoroni, l'importante intanto è fare polverone, poi dopo sotto sotto qualcosa viene tranquillamente deciso. Però ecco, mi piacerebbe che un po' più di coerenza nella vita, questo qua, questo è quanto, cioè veramente non si può il giorno prima dire una cosa e il giorno dopo rimangiarsela completamente. Ragazzi, in Italia purtroppo viene a mancare, una volta forse c'era, adesso viene a mancare completamente la cultura sportiva. E' vero che bisogna saper perdere, bisogna saper vincere, bisogna essere sportivi, noi non lo siamo nella maniera più assoluta e questa cosa mi dispiace, perché magari invece di dare colpa ad un arbitraggio, fare mea colpa, dire non ho costruito una squadra a posto, una squadra forte, sarebbe probabilmente meglio. Comunque sono sicuro che queste sono mie opinioni ovviamente personalissime, troveranno consensi, troveranno sconsensi, nel senso ci sarà che chi non piace quello che ho detto, ci sta, è il gioco della vita, siamo liberi di esprimere le nostre opinioni, però c'è sempre modo e modo di esprimerle, e specialmente chi ha delle influenze in qualche maniera sulle persone dovrebbe stare particolarmente attento a quello che dice, perché altrimenti si rischia semplicemente e solamente di fomentare un inutile odio. Per oggi basta, la chiudo qua, tornerò magari a parlare sul discorso tifosi, violenze sugli stadi e quant'altro, altrimenti rischia di diventare un video veramente enorme e non ho voglia di fare una cosa simile. Vi saluto, ci sentiamo sicuramente, alla prossima. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e spuntate la campanellina se volete essere avvisati ogni qual volta pubblicherò un nuovo video. Iscriviti, condividi, spamma, alla prossima, ciao!